Il bilancio dei morti di Covid rischia di superare i 2 milioni in Europa entro marzo 2022 e la stima elaborata dall'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I dati indicano che i decessi dovuti al virus sono raddoppiati la scorsa settimana. Per l'OMS Europa ci attende un inverno impegnativo, ma azioni decisive di governi e cittadini possono stabilizzare la pandemia, a trascinare l'aumento dei contagi e la variante Delta, l'allentamento delle misure anticontagio come l'uso di mascherine e il distanziamento, ampie fasce di popolazione non immunizzate.